io ero pronta da mezz'ora ok, tutti gli amici musicisti sul palco formare un'idea in su mai così facciava la foto di gruppo come si faceva le medie che è più bella quando abbiamo iniziato il giornale insieme non fate così non sento niente un po' di mangiare la voce io sto sicuramente Andrea Nismora Andrea Caccioli Enrico Costello Max Comini Marco Fumaroli Gianluca Di Maltia Marco Barbucci Marco Boccolanieri Eddie Mazzano Marco Contrignani Andrea Battista e Matteo Maggiunti è andato a casa dei figli e ognuno di loro, ognuno di voi è un pezzo del mio cuore grazie a tutti per questa e chi si è mai avuto abbiamo iniziato con Genis e con Genis se voi volete scappiare mi scomento a voi perché una chitarra ci sarebbe buona ci sarebbe buona nessuno di voi ha una chitarra che mi sono andato di sonno e ha già che l'assolto è un pezzo ma credo tanto inizio grazie a tutti grazie a tutti Sì No, no, no. a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.